fai piano che cadi quell'uomo porta sfiga dove passa lui e sapete anche che ci sono artisti cantanti famosi, accusati ingiustamente di portare Iella isolati e spenti quasi al suicidio ormai ci trattano tutti come se fossimo degli appestati, ma che male abbiamo fatto io non voglio lasciarti però magari è meglio non farci vedere in giro insieme magari da qualche parte vi è nascosto siamo insieme da tre anni Roberto e solo oggi mi rendo conto che sto con uno che non ha le palle mio padre non ha mai fatto del male a nessuno avvocato io sono un uomo onesto, sono loro che mi hanno rovinato però io adesso ho trovato la soluzione vuoi che ti elenchi tutti i fatti nefasti accaduti ultimamente? voi siete degli assassini! avvocato! i medici sono abbastanza ottimisti hanno tolto tutto il male per fortuna era circoscritto sono contenti? avvocato in tutti questi anni io ho accumulato talmente tanto odio contro di me che adesso io veramente credo di avere negli occhi la potenza per far crollare un'intera città!